ciao ragazzi bentornati alla fettaverna oggi facciamo un video molto breve un video che vuole essere di spunto per capire come andare ad allungare tutta quella muscolatura che aduce l'omero e intra ruota quindi sia il grandorsale ma per esempio anche i scenaggi del grandorsale come per esempio il grande rotondo e sottoscapolare prima di fare il video vi ricordo che se siete interessati ai miei contenuti ce ne sono assecchiate su questo canale youtube ne potete trovare anche sul mio canale instagram e se poi vi interessa le navi a corpo libero sul mio sito www.alessandomenente.it potete trovare una sezione dedicata ai miei video corsi di cui potete trovare le demo quindi non si compra niente a scatola chiusa ok più avanti ci saranno delle promozioni ma non vi voglio ancora svilare quando e soprattutto se volete essere seguiti con il coaching online oppure in presenza c'è il modulo contattami direttamente dal menu sul mio sito ricordatevi che io alleno chi vuole migliorare comunque che vuole impegnarsi quindi oggi parliamo di mobilità articolare cerchiamo di capire qual è il modo migliore per andare ad allungare il grande rotondo il grandorsale e sottoscapolare sono tutti i movimenti che estendono l'omero quindi sicuramente mi riducono la capacità di andare a fare una flessione scapolomerale infatti non è un caso che chi ha molto accorciamento in questi gruppi muscolari tende a far fatica a fare una verticale bella aperta e sono sicuramente muscoli che producono un certo grado di intra rotazione quindi che cosa succede che man mano che il braccio va su tende anche ad intra rotare questo come si manifesta si manifesta palesemente a gomito flesso e perché quando io vado su in questa posizione il braccio tende a fare questo quindi io devo escogitare un modo per far sì di aumentare quella che è la flessione scapolomerale ma allo stesso tempo cercare anche di ridurre la rotazione interna ecco che viene in nostro aiuto una bellissima spaliera ma voi potete benissimo utilizzare anche un power rack e utilizzare un bilanciere l'idea quindi qual è andare a cercare di proiettarci un po nel futuro di qualche minuto e capire dove cavolo va a finire il gomito perché il gomito sicuramente andrà a trovarsi sopra la spalla e il braccio tenderà a ruotare internamente quindi io utilizzo la spaliera per evitare che braccio ruoti internamente quindi quello che vado a fare è cercare di capire che quando sarò in questa posizione il braccio sarà qui e di conseguenza vado ad incastrare come vedete con la mano dietro il piano della spaliera a questo punto il braccio sarà bloccato in rotazione esterna e sarà impossibile un compenso in questa posizione quindi quando sono in questa posizione guardate che faccio questa è la posizione di partenza ho un blocco dovuto alla spaliera da questa posizione devo aprire questo angolo quindi come vedete prima sistemo la rotazione interna esterna che è la cosa più precaria e dopo vado a recuperare questo angolo siccome non voglio andare a muovere il gomito su ulteriormente cosa vado a fare vado semplicemente a flettere le gambe in questo modo piegando le ginocchia e cercando di portare la scella esattamente sotto il gomito una volta che ci sono arrivato posso provare addirittura a tenere il petto in dentro e percepirete più allungamento sia sul dorsale ma principalmente in questa zona dove c'è l'attaccatura del grande rotondo quindi ragazzi io spero che abbiate trovato utile questo contenuto ovviamente è un tipo di esercizio manolaterale che io vi consiglio di eseguire una volta per lato senza pausa e definire sempre con il lato più rigido imparate sempre a contestualizzarlo e non assegnare gli esercizi a caso che non serve assolutamente niente se poi avete qualche domanda scrivetelo nei commenti che io magari la utilizzerò come spunto per fare un altro video va bene ciao ragazzi e ci vediamo al prossimo video